Una banca propone ai propri clienti quattro diversi investimenti. Il primo consiste nell'acquisto di titoli di Stato, il secondo nell'acquisto di obbligazioni societarie, il terzo nell'acquisto di un portafoglio azionario, il quarto nell'acquisto di azioni di una singola società. Il rendimento dei quattro investimenti dipende dall'andamento futuro dei mercati finanziari. I possibili scenari sono boom economico, lieve crescita del mercato azionario, crisi della borsa e crisi finanziaria mondiale. Nel nostro esempio assumiamo che i titoli di Stato garantiscano un rendimento del 2% in tutti gli scenari, le obbligazioni garantiscano un rendimento del 4% nei primi tre scenari e un rendimento nullo nel quarto. Il portafoglio azionario restituisca rispettivamente un rendimento del 20%, 8%, meno 3% e meno 30% e infine le azioni di una singola società rendano rispettivamente il 50%, il 10%, il meno 10% e il meno 100%. L'ultima colonna riporta le probabilità che ognuno dei quattro scenari possa verificarsi. Quale investimento è il migliore? È questo un tipico problema di scelta in condizione di incertezza? Come vedremo, non esiste una risposta migliore in assoluto, ma la scelta dipende dal criterio che ogni risparmiatore adotta. Esploriamo dunque quattro diversi criteri utilizzabili per rispondere alla domanda. Un primo semplice criterio è quello del pessimista, che cerca di minimizzare le eventuali perdite. Dunque, per ogni scenario viene individuato il valore minimo. Poi, fra questi, viene scelto il maggiore. Con questo criterio, l'investimento migliore è rappresentato dai titoli di Stato. All'opposto, esiste il criterio dell'ottimista. Un cliente potrebbe essere interessato a ottenere il massimo guadagno possibile senza curarsi né dei rischi né delle scarse probabilità di ottenerlo. Con questo criterio, l'investimento migliore è rappresentato dalle azioni, che possono dare un rendimento del 50%. Questi criteri non prendono in esame la probabilità che ogni scenario si verifichi. Vediamo ora come funziona il criterio del valore medio, che invece ne tiene conto. Calcoliamo il rendimento medio di ogni opzione sommando i prodotti fra il rendimento di ogni scenario per la probabilità che si realizzi. Determiniamo il rendimento medio per ogni colonna. Il valore medio più alto è dato dall'opzione 3. Dunque, secondo il criterio del valore medio, la scelta migliore è rappresentata dal portafoglio azionario. Vediamo infine come funziona il criterio della valutazione del rischio. Abbiamo bisogno di determinare la deviazione standard di ognuna delle alternative. calcoliamo la prima, la seconda, la terza e infine la quarta. Secondo questo criterio è necessario fissare il nostro limite di rischio rispetto al rendimento medio di ciascun investimento. Scegliamo dunque come riferimento una frazione del rendimento medio, per esempio un terzo. Con questa frazione calcoliamo il limite di rischio per ciascun tipo di investimento. Poi confrontiamo il limite di rischio con la deviazione standard. Scartiamo tutte le alternative per cui la deviazione standard è maggiore del limite di rischio. Nel nostro caso le alternative 3 e 4 non superano questa condizione e vengono escluse. Tra le due opzioni rimanenti scegliamo quella con un rendimento medio maggiore. Dunque secondo questo criterio la scelta migliore è l'obbligazione. Abbiamo così visto come in un problema di scelta in condizioni di incertezza è possibile applicare diversi criteri di scelta e questi criteri possono produrre risultati differenti.